Progetto Trifuoggi e Città-Territorio L'Aquila sono le liste che appoggeranno alle prossime amministrative L'Aquila Police, la coalizione civica con Trifuoggi sindaco. Cambiare perché no è lo slogan scelto, liste composte da professionisti, da giovani, da esponenti della società civile. E' uno sguardo completo sulla città, a testimonianza del fatto che questa squadra crede nel mio progetto e anche coloro che sono privi di lavoro credono che con le proposte che abbiamo fatto e continueremo a fare potranno finalmente trovare quel posto di lavoro che sognano da troppo tempo. Candidati vecchi e nuovi insomma, tra cui molte donne che hanno voglia di partecipare ad un progetto politico ben definito e vicino alla gente. I giovani di oggi purtroppo sono sfiduciati nei confronti della politica e questa cosa per me non è assolutamente possibile e quindi dopo un'attenta riflessione ho deciso appunto di metterci la faccia e di scendere in campo. Dal canto mio credo che sia necessaria assolutamente una regolamentazione precisa e dettagliata sui ruoli dei CTP, altrimenti rischiano di essere delle buone realtà territoriali sicuramente di riferimento ma mancano poi di quel collegamento essenziale con l'amministrazione. Per esempio potrebbe avere un ruolo molto più importante ed incisivo in campo sanitario visto che il sindaco di una città è il primo rappresentante nel mondo sanitario, sta all'interno della rappresentanza dei sindaci del comprensorio per quanto riguarda l'organizzazione degli ospedali e ancora di più l'organizzazione del territorio. Un nostro territorio messo a disposizione di qualcosa che concretamente dà assistenza e lavoro penso che sia già un passaggio di per sé rivoluzionario. Perché penso che la comunità rumena, perché io vengo dalla Romania, sono ormai tantissimi anni che sto all'Aquila e penso che la comunità rumena sia ben integrata all'Aquila. Perché all'Aquila sembra che si può lottare solo contro i foggi e io sto con lui perché mi ha dimostrato la sua magnanimità accogliendomi nelle liste. Sono candidato insieme ad Alina, ho fatto questa coppia stupenda.